Per quanto riguarda la nostra situazione, noi dalle 18 in poi abbiamo questa problematica, non solo del lavoro di asporto o un eventuale contegno a domicilio, ma ultimamente ci sono state delle, diciamo non false notizie, ma un po' di disinformazione riguardo l'orario delle pasticcerie, in effetti dopo delle 18 ormai, visto e considerato che il bar, le pasticcerie, la gelateria, tutta la isolazione può fare solo asporto, in giro per le città c'è pochissima gente e quindi questa è una delle problematiche più importanti. E' chiaro, noi faremo delle proteste e quant'altro, ma fermo restando l'assoluta priorità di affrontare l'emergenza sanitaria, questo noi siamo coscienti, tutte le misure necessarie, quello che abbiamo fatto anche durante il periodo della chiusura del lockdown, quindi a oggi noi non ci riteniamo sicuramente un tori di questa pandemia, perché visto e considerato che i primi di tutti a chiudere sono i bar e tutta la ristorazione, noi non ci riteniamo tali in questo caso. I nostri luoghi sono tutti dei luoghi sicuri, mentre al contrario direi i luoghi che dovrebbe tenere sotto controllo lo Stato, che sarebbero il trasporto, vedi, treni aerei, pullman per i ragazzi, le scuole e quant'altro, lì il problema continua ad esistere naturalmente. Quindi noi ci ritroviamo chiusi con tutte le accortezze che prendiamo e che abbiamo per l'emergenza e per tutelare sia i nostri clienti sia i nostri collaboratori, ci ritroviamo chiusi e dobbiamo aspettare che cosa? Qualcosa che non sappiamo se arrivare a quanto prima, quello che sono gli aiuti e quindi non accettiamo determinate cose. Allora dico questo, se vogliono chiuderci, allora prima ci dite guarda sul conto hai un contributo, dopodiché ti chiudiamo perché abbiamo bisogno di tutelare tutta la popolazione e quindi possiamo chiudere. Allora sì, in quel caso sì, ma stare lì ad aspettare tra qualche giorno la chiusura totale perché il rischio che noi pensiamo ci sia è quella della chiusura totale. Proprio per questo, fra qualche giorno, in questi momenti abbiamo deciso cosa fare, faremo un gruppo di non solo pasticceri ma tutta la ristorazione della provincia di Reggio Calabria, faremo più di 300 persone, tra cui da poco si sono aggiunti anche altre attività che vorrebbero manifestare con noi, chiamo a Piazza Duomo per manifestare tutti i pubblici esercizi insieme alla Confesa Esercenti e per tale motivo vogliamo rivendicare il ruolo dei piccoli imprenditori. Il vero motore effettivamente è dell'economia in Italia, quindi abbiamo bisogno delle misure immediate e efficaci che siano importanti per poter evitare il collasso della nostra ristorazione. Come vi porrete di fronte a questa iniziativa del governo? Mi pare che le misure per voi non sono assolutamente sufficienti o sbaglio? No, noi abbiamo chiesto che comunque ci siano degli interventi concreti, chiediamo soltanto che sia data la possibilità a queste categorie di sopravvivere, perché un altro lockdown porterà soltanto ad avere, come dire, a ammietare molte più vittime di quanto potrebbe fare il virus. Chi si rivolge a voi, qual è la più grande difficoltà che a questo momento riscontra? Immaginiamo la liquidità, l'opportunità di avere… Certo, le liquidità è la prima cosa, è la cosa fondamentale, perché chi si ritrova a chiudere l'attività, dopo che comunque ha investito comprando dispositivi di protezione per i lavoratori e per i clienti, si trova comunque ad avere questi sacrifici comunque inutili. Ecco, avete tante categorie, tra gli altri ricordiamo anche i benzinai, mi pare di capire. Sì, i benzinai abbiamo costituito qualche mese fa la categoria dei benzinai, il nuovo settore dell'associazione, banchiamo già un bel porto di associati, soprattutto in Calabria e insieme a loro stiamo cercando di farci sentire anche con le compagnie petrolifere, perché si parla comunque di una chiusura di diversi impianti in un tot di anni.